Direttamente dal Bridge Extreme Festival, dobbio benvenuto alla situazione Sorry for Party, qui con me Simone, buonasera Simone, benvenuto, insomma so che tu hai iniziato a fare il DJ qualche anno fa, come ti sei approcciato alla musica? Ormai sei anni fa ho iniziato, come quasi tutti, grazie a un amico che era appassionato anche lui di musica elettronica, ho iniziato nei garage di casa, nelle feste comunque tra amichetti e poi sempre più in là, poi ho conosciuto gli altri ragazzi, ormai tre anni fa li ho conosciuti a una festa qui intorno e basta, da lì è iniziata un'amicizia e prima di tutto, e poi è nata questa situazione che si chiama... Questa sera qui, Bridge Extreme Festival, come è andato il DJ set? Guarda, noi abbiamo iniziato dal pomeriggio, dall'una fino alle tre abbiamo fatto, in contemporanea in pratica con il contest di BMX che c'era di fianco al ponte, e tutto liscio come l'olio, dall'una e mezza è iniziato ad arrivare la gente, quindi sempre un'accoglienza molto calda, sì 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 davvero, hanno reagito molto bene, quindi non ci lamentiamo. Davvero, è andato tutto liscio. Simone, io direi di chiamare qui con noi Luca per Sorry for Party, buonasera Luca, benvenuto. Buonasera a voi, ciao a tutti. Luca, so che voi rappresentate questa sera lo show che è il Sorry for Party, come è nato? Sorry for Party diciamo che è un gruppo di ragazzi, un gruppo soprattutto di amici, che in comune hanno la passione per la musica, e abbiamo sviluppato questa passione organizzando eventi, principalmente ci siamo basati su aperitivi, aperitivi lunghi, e abbiamo avuto subito una grande soddisfazione all'East Dreamtime, che era un brand che abbiamo lanciato in cicchetteria. Volevo ringraziare anche Paolo Grando, che ci ha dato un gran supporto per questa serata. La cicchetteria di Fedre. La cicchetteria di Fedre, esatto. E da lì poi abbiamo sviluppato altri progetti in collaborazione con altre situazioni, come Glory Hall al plettro di Quero, dove anche lì abbiamo partecipato con Simone in console, lo scoop all'anima di Treviso, che anche lì volevo ringraziare Lollo, e comunque anche lì sempre Simone in console, e basta. Simone è il vostro DJ che meglio rappresenta lo showcase. Esattamente, diciamo è il nostro DJ di punta, noi ci basiamo su di lui, puntiamo su di lui. Giovanissimo oltretutto. Esatto, esatto, speriamo che cresca. Allora, non ci resta che incrociare le dita? Esatto, incrociamo le dita e sorry for parte.